Allora, oggi partiamo ufficialmente con questo nuovo progetto Dolce Bank Easy che si fonda sull'integrazione di due strutture storiche ormai in Italia una specialista sul credito al consumo e l'altra sulle carte di credito aggiungendo un pizzico di novità che è una serie di prodotti assolutamente nuovi per le realtà di riferimento e che intendono dare vita a un nuovo modello di business molto più completo rispetto a quello vissuto negli ultimi 40 anni quindi esperienze sicuramente ancora attuali ma che hanno segnato un po' il tempo crediamo di leggere bene il momento storico e soprattutto il trend di mercato anche nei prossimi anni proponendo appunto questa variazione di come intendiamo a servire la nostra clientela Allora, andiamo ad offrire il nostro target di riferimento che non cambia la clientela storica è comunque un patrimonio importante un punto di riferimento importante per il mercato per cui complessivamente seguiamo circa 2 milioni di clienti e intendiamo offrire ai nostri clienti un ampliamento di gamma di servizi e di prodotti uno per tutti il nostro contocarta, una sorta di contocorrente che è una carta prepagata con IBAN anche a tutte le funzionalità del contocorrente gratuita in tutti i suoi aspetti quindi andiamo ad offrire un servizio molto più conveniente per i nostri clienti che possono trovare a questo punto in Deutsche Bank Easy una risposta più ampia rispetto alle esigenze di base ieri offrivamo in maniera settoriale carte di credito e credito al consumo oggi ci proponiamo come realtà integrata possiamo fare riferimento su una rete distributiva molto molto ampia innanzitutto i nostri punti fisici punti fisici diretti quindi della banca più un network con franchise di agenti con circa 150 punti fisici sul territorio oltre alla fisicità degli sportelli un nuovo sito internet www.dbeasy.it più tutto i canali distributivi di cui ci avvaliamo che sono il nostro network tradizionale di intermediatori sono rivenditori presso i punti su cui distribuiamo il credito al consumo o carte di credito quindi una capacità di essere molto molto vicini alla realtà italiana che crediamo di conoscere molto bene di essere molto molto vicini ai nostri clienti che crediamo di conoscere altrettanto bene